Da questo mercoledì scatta l'obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico. Non basterà più dunque il semplice tampone, una misura da tempo chiesta dai presidi che tuttavia possono già contare su un'ampia platea di personale già vaccinato. Non è possibile avere i nomi, un discorso di privacy, però diciamo che per conoscenza indiretta sono arrivato alla conclusione che i casi sono veramente pochi, si contano sulle dita di una mano per quello che riguarda i docenti e ancora meno per quello che riguarda gli ATA, il personale ATA. Quindi la situazione è abbastanza tranquilla da questo punto di vista, la scuola sta risposto bene. L'obbligo vaccinale sarà rispettato dalla stragrande maggioranza del personale scolastico. Le percentuali del personale scolastico vaccinato, è vero, sono molto alte, ma a questo punto dell'anno anche un solo professore che decide di non vaccinarsi e che quindi viene sospeso può creare dei grossi problemi alla didattica. Molte graduatorie sono esaurite, quindi per alcune discipline ci saranno problemi. Soprattutto per le discipline scientifiche non sarà facile trovare dei sostituti a questo punto dell'anno. Lei nella sua scuola potrebbe avere qualcuno di questi casi? Sì, penso di sì, però ripeto, fortunatamente pochi e quindi alla fine una soluzione la troveremo. Magari facendo ricorso alle messe cosiddette alle MAD, vale a dire ai docenti che non sono inseriti nelle graduatorie provinciali ma sono comunque laureati e quindi si sono messe a disposizione delle scuole. Quindi alla fine penso che in qualche modo rimedieremo.